benvenuti alla resegna stampa di mercoledì 21 ottobre 2020 sul canale 17 di fano tv in tutta la regione Marche sul digitale terrestre e sui social sul nostro profilo occhio alla notizia sulla nostra pagina facebook c'è l'appuntamento con i giornali sfoglieremo abbiamo già selezionato le notizie e le pagine più interessanti più importanti quelle che ci fanno soprattutto riflettere ci fanno ragionare perché di questo abbiamo bisogno anche di ragionare non di prendere le notizie così come vengono date semplicemente in modo passivo e allora cercheremo di darvi qualche spunto per la giornata di oggi intanto cominciando cominciando dal santo del giorno oggi la chiesa ricorda sant'orsola e compagne l'alba alle 7 33 e il tramonto alle 18 e 17 per quanto riguarda il tempo non c'è molto da dire cari telespettatori perché oggi avremo semplicemente cielo sereno poco nuvoloso così come per la giornata di domani giovedì e per la giornata di venerdì con temperature che sono anche in lieve aumento poi il tempo peggiorerà nella giornata di sabato domenica poi i prossimi giorni la prossima settimana sarà decisamente perturbata allora andiamo adesso a vedere questi giornali appunto il resto del carino di Corriere Adriatico le edizioni pesaresi cominciamo dal carino di pesero che in prima pagina pubblica la fotonotizia di rosa che è la cassiera che ormai abbiamo imparato a conoscere la cassiera dell'ipercop che nel momento del più delicato della pandemia dell'emergenza di marzo ha donato 250 euro ai sanitari del 118 con due buoni spesa e un gesto che è piaciuto un gesto che le ha fatto onore ovviamente e che per questo le valsa l'onorificenza che ieri è stata consegnata al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella il titolo la cassiera è cavaliere cavaliere della Repubblica covid 100 euro agli under 14 che ha meno di 14 anni il comune di pesero divide gli aiuti tra imprese e famiglie premio a circa 6.000 ragazzi domande che vanno presentate entro il 12 di novembre ieri qualche giorno fa vi abbiamo parlato del milione di euro che il comune di pesero ha ricevuto dal governo essendo stato zona rossa il più colpito eccetera eccetera il comune nei giorni scorsi aveva detto aveva già annunciato che quei soldi sarebbero andati direttamente ai cittadini ecco che alcuni di questi 100 euro andranno anche a chi ha meno di 14 anni credo che sia un unicum in qualche in qualche modo ora sempre dalla prima pagina del resto del Carlino allora per quanto riguarda la prevenzione nebbiogeno e contapersone così si combatte il virus sugli autobus fiera del tartufo annullata anche sant'angelo ha rinunciato dunque troppi i rischi del contagio lo sport vl verso roma ma il club capitolino rischia il fallimento finito l'allarme oggi la vista affronterà la triestina per quanto riguarda la serie c sotto a gabice offre un bicchiere mega multa ad un ambulante è un fanese aveva dato vino ad un cliente a fine pasto verbale di 1000 euro violate le norme di vendita il patto per urbino università supercontrolli su ogni appalto tra ateneo e prefettura l'intesa della legalità per evitare ogni forma di infiltrazione mafiosa e adesso la pagina invece del corriere adriatico a centro pagina la fotonotizia di della commessa che ha ricevuto da mattarella a distanza non c'è stata nemmeno la stretta di mano dell'onorificenza mi sono sentita in una favola racconta racconta lei mentre il titolo d'apertura è per il bonus che dicevo prima appunto che si fa in tre decisa la ripartizione del milione che arriverà dallo stato attività in difficoltà i soldi andranno per le attività in difficoltà per le famiglie e per i bimbi il grido intanto degli albergatori che si sono riuniti in assemblea un futuro nerissimo chiudono anche gli hotel annuali mentre di spalla l'intervista sul recovery found anche qui parliamo di soldi che dovranno arrivare speriamo dall'europa tanti e tanti soldi cottarelli spinge l'ultimo treno questo per le marche pesero furti nella notte rubano anche la cannabis light sempre da pesero in campo 15 sodalizi no al bio di gestore finalizzato ai profitti e poi da fano il carnevale previsto a giugno arrivano contributi per dante il tema della prossima edizione del carnevale cacciatori invece inseguono una lepre in due sparano tra la gente piombano su un gruppo di 60 persone con bambini momenti di grande paura giovane colpito dai pallini e poi università e prefettura un'intesa antimafia e allora andiamo a vedere subito le pagine interne cominciando da questa che è stata definita dalla protagonista una favola lì mi sono sentita una principessina rosa maria lucchetti ieri al quirinale insignita da mattarella cavaliere della repubblica la generosa commessa in piena pandemia lasciò tre buoni da 250 euro agli uomini del 118 dice lei ora sono cavaliere della repubblica per un gesto che ho fatto con il cuore in forma anonima e che rifarei altre mille volte perché bisogna sempre ascoltare il cuore anche lei come commessa ha dato il suo contributo durante i mesi difficili del lockdown ma come scriveva nella lettera che le è valsa la nomina per lei i veri eroi erano gli operatori sanitari impegnati in una lotta disperata contro il primo attacco del virus e poi umilmente dice io non sono altro che una cassiera che lavora lì per copp mira il fiore ieri durante la rassegna stampa abbiamo parlato della necessità di parlare del covid eccetera eccetera poi ci torneremo anche leggendo un articolo che prendiamo dal quotidiano nazionale a un certo punto vi ho parlato anche di un di un paziente forse quello più complicato che sta lottando per la vita di 53 anni e oggi il resto del carlino pubblica la foto il nome di questa persona che appunto si trova in terapia intensiva e andiamo a vedere la pagina 15 del resto del carlino la persona è una persona conosciutissima a fano ma non solo a fano in tutta la provincia di peso urbino perché Gianluca Santorelli 52 53 anni insomma Santorelli purtroppo in questo momento è in gravi condizioni è in terapia a Dancona è stato spostato da Pesero a Dancona dopo l'immunoterapia quindi con l'iperimmune è stato portato da Pesero a Torrette l'ex amministratore dell'aeroporto si è contagiato in viaggio ad Amsterdam e nel primo pomeriggio di ieri scrive Gennari sul carlino di questa mattina Santorelli ex amministratore dell'aeroporto cittadino quattro figli il più grande a 14 anni è stato trasferito dall'ospedale di Pesero al Torrette di Ancona il professionista ha contratto il coronavirus in un viaggio di lavoro fatto in Olanda esattamente ad Amsterdam le sue condizioni vengono definite estremamente critiche la notizia delle condizioni di Gianluca Santorelli non ha solo fatto in questi giorni in giro della città ma ha raggiunto anche gli studi professionali di Pesero. Le prime dosi del vaccino arriveranno a dicembre Conte è sicuro manca poco alla via libera gli Stati Uniti potrebbero iniziare la distribuzione del siero a novembre Pechino ha già avviato la produzione di massa interessante invece là anche perché è un dietro alle quinte se vogliamo intanto per quanto riguarda il vaccino va detto che Locatelli frena e ha detto ha aggiunto il Consiglio Superiore di Sanità è più cauto realisticamente potremo partire diciamo in primavera con il vaccino mentre Conte dice manca poco al via libera forse dicembre ma non non facciamo false illusioni per chi ovviamente vorrà vaccinarsi. Intanto dicevo credo che sia importante anche leggere questa notizia che sempre il resto del Carlino con Stefano Cinaglia pubblica e che è un'intervista ad una cavia italiana sapete che per il vaccino c'è tanto tempo bisogna parlare che passi molto tempo ci sono le sperimentazioni e quant'altro ebbene il Carlino ha intervistato Antonio Matastasio che vedete in questa fotografia di professione psichiatra ternano che vive a Cambridge con la famiglia e lavora a Londra ed è volontario nella sperimentazione del vaccino anticovid promossa dalla casa farmaceutica AstraZeneca dell'Università di Oxford e da una società di Pomezia. Ora la sperimentazione dice lui avviene in modalità doppio cieco cioè i volontari non sanno se venga a loro somministrato il vaccino oppure un placebo quindi parliamo di, chiamiamola così per semplificare una fitta medicina anche se per loro può sembrare vera ma in sostanza non ha il principio attivo di fatto è inerte. Ora la prima dose dice lui l'ho assunta a fine giugno poi sono stato sorteggiato per il gruppo del richiamo e ho avuto la seconda che dire sto benissimo non ho risentito assolutamente di nulla sia a luglio che a settembre sono tornato a Terni potrei chiedere all'organizzazione se ho ricevuto il vaccino o un placebo ma se facessi questa domanda se chiedessi appunto mi avete fatto il vaccino o un placebo uscirei dal percorso di sperimentazione quindi dice non lo chiedo non dico niente perlomeno adesso perché in futuro penso di vaccinarmi anch'io ma Alessandro Malpelo sempre sul resto del canio di questa mattina pubblica una pagina anche qui interessante su un argomento che noi abbiamo trattato proprio ieri parlando con voi a casa e tra l'altro apro parentesi avete risposto in tantissimi ieri siamo stati inondati da telefonate messaggi e quant'altro quindi significa che l'argomento è interessante e allora oggi non volendo ecco qua che cosa ne pensa appunto questo professore che è un virologo di chiara fama il professor Palù e lui dice covid meno letale di tante melattie infettive il virologo non si può seminare il panico gli studi dicono che questo virus è lontanissimo dalla SARS si è persa la capacità di valutare i dati per quello che sono ora posso immaginare l'obiezione che qualcuno di voi starà facendo in questo momento magari sorseggiando un caffè o mentre si prepara per uscire di casa Ferri lei ha appena parlato di un 52enne che sta lottando per la vita eccetera eccetera ora c'è la privacy quindi io conosco Santorelli i familiari non vado oltre e non dico oltre però posso dire che in questo momento è importante e lo vedremo perché lo dice anche lui quando il covid viene preso per tempo è vero che si può anche finire in terapia intensiva ma spesso si esce dalla terapia intensiva a meno che uno non è avanti con gli anni ha molte patologie pregresse come spesso succede a chi purtroppo ci lascia in questi giorni quindi se invece uno lascia correre e magari tarda un po' ad arrivare pensando che quella tosse quella febbre tanto prima o poi passerà e dà spazio al covid di fare il suo lavoro è chiaro che poi dopo le questioni si complica anche se uno ha 53 anni detto questo però io mi fermo perché non vado oltre andiamo a leggere quindi questo importante non si può seminare il panico occorre prudenza dice il virologo nei comportamenti quindi questa è la prima cosa ma senza arrivare a seminare il panico nella gente come vedo purtroppo fare in alcune trasmissioni tante non alcune trasmissioni tante trasmissioni l'appuntamento con il bollettino televisivo eccolo dei decessi causa coronavirus in questo modo asciutto e martellante evoca la paura irrazionale del contagio come dire primo o poi toccherà anche a me insomma ma succede a livello psicologico perché ad un certo modo di fare informazione è diventato virulento non per nulla hanno coniato il termine infodemia va bene si è persa la ragionevolezza quindi non si ragiona più in sostanza perché si è persa la capacità di riflettere di ragionare di valutare i dati per quello che sono la gente ormai pervasa dal pessimismo mi ferma per strada dice il virologo e mi crede se moriremo tutti di questo morbo gli studi più recenti mostrano che la letalità di questa malattia oscilla tra lo 0 3 e lo 0 6 lontanissima dunque dalla sars che invece era del al 10 per cento inferiore persino alle infezioni da batteri resistenti per essere esaustiva l'informazione dovrebbe spiegare ad esempio che essere positivo al tampone l'abbiamo detto mille volte essere positivo al tampone non significa essere malato contagioso questa che abbiamo di fronte non è la peste non sarà un nuovo vaiolo la curva certamente ultimamente sta andando sta andando in modo esponenziale ma invece di fare proclami evocando futuribili nefasti scenari facendo credere che prima o poi saremo inesorabilmente tutti infettati occorre descrivere la situazione oggettiva ed indicare come vogliamo uscirne e allora poi qui ci sono alcuni dati che adesso vi risparmio ma comunque è giusto quello che dice assolutamente e poi vanno favoriti maggiori tra le cose che invece bisogna dire a costo di far venire la nausea è che bisogna usare la mascherina che però non basta perché bisogna averla tutti quanti e vanno favoriti maggiori distanziamenti e ricambi d'aria poi sulla inseguire la catena dei contagi è chiaro diventa difficile perché più aumentano i tamponi più aumentano gli asintomatici più aumentano dice lui inseguire la catena dei contagi diventa problematico con il 95 per cento di asintomatici mi chiedo che senso abbia risalire ai contatti dei contatti considerato il tempo di incubazione dell'infezione e i tempi di intervento lo vedo difficile da realizzare cioè una volta arrivati il virus è già saltato praticamente da un'altra parte intanto sotto l'ex deputata De Girolamo dice sono positiva va in isolamento il marito che appunto il ministro boccia ormai si entra al bar e siamo sulla pagina di Fano del Carlino con la paura covid a poche ore dall'entrata in vigore delle nuove regole i titolari notano già le prime differenze e qui ci sono le fotografie di alcuni gestori di bar tra l'altro anche Maria Flora Gianmarioli che gestisce un bar in centro storico e che è un volto noto in quanto ricopre anche la carica di presidente dell'ente carnevalesca e di carnevale si parla sulla pagina di Fano perché arriveranno all'ente carnevalesca 10.000 euro grazie a Dante attraverso il suo carnevale una vetrina per Fano nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Lighieri e 10.000 euro di contributi dal governo per il progetto carnascialesco che valorizzerà la figura del sommo poeta e poi sotto ancora se arriva un altro lockdown vado in tribunale e chiudo tutto il tartufo di Sant'Angelo in Vado è stato bloccato il sindaco Parri non se l'è sentita e non se la sente di continuare con gli altri due appuntamenti la pandemia sta peggiorando meglio fermarsi qui serviva un protocollo validato dal comitato scientifico oltre ad una serie di requisiti che non riuscivamo a garantire venerdì invece passa la mille miglia chiuse molte scuole venerdì a Urbino passa la mille miglia così come passa vedremo tra poco anche in chiusura di resegna stampa anche a Pergola e poi sugli altri sulle altre pagine sempre per quanto riguarda il covid ma ne abbiamo selezionato e tolte parecchie abbiamo tenuto solo quelle più utili diciamo e interessanti ma soprattutto utili bus covid free perché questo è un problema serio quello delle tante persone tanti giovani tanti studenti che sono costretti a stare tutti attaccati sugli autobus con lo spray e il contapersone AMI ne sta sperimentando dieci grazie al nebbiogeno bastano 60 secondi per neutralizzare dalle superfici le tracce del morbo ora è chiaro che i genitori sono preoccupati anche ieri sera proprio una persona mi diceva fate qualcosa fate un servizio ancora servizi su questa situazione degli autobus perché non si può non si può far salire questi ragazzi che poi poi vanno nelle case vanno eccetera insomma che cosa dobbiamo fare che cosa dobbiamo fare e questa è una soluzione gli ispettori ancora non hanno fatto multe benedetti dice ragazzi in genere si comportano bene sugli autobus può essere vero io non sono salito ieri però andando fuori da una scuola ero a Fano in centro fuori da una scuola media esatto una scuola media ebbene fuori dalla scuola media molti studenti erano senza mascherina e tranquillamente passeggiavano un attaccato all'altro come se nulla fosse ecco questo atteggiamento vanifica tutto quello che magari è stato fatto per seguire il protocollo scolastico nelle cinque ore che sono stati dentro le scuole dentro le aule magari dentro le aule con la finestra aperta al freddo qualcuno anche con la mascherina per cinque ore poi esci da lì e vanifichi tutto lo sforzo e il sacrificio fatto durante la mattinata la mascherina purtroppo è un accessorio che ancora per molti mesi dovremmo tenere come se fosse parte di noi una costola potete fare a meno di una costola no neanche della mascherina andiamo avanti velocemente con la e questo i genitori lo devono spiegare poi ai figli perché altrimenti è difficile allora Senigallia senza mascherina multato un quindicenne questo è il titolo della pagina del carlino i carabinieri proseguono nell'attività di controllo sul territorio il ragazzo trovato a montemarciano in una zona pubblica vedete forse anche questo potrebbe essere dispiace perché poi quando si va a incidere sul portafogli soprattutto un genitore che deve pagare per la negligenza del figlio ma comunque può essere come dire poi tra loro se ne parlano cioè i ragazzi tra loro ne parlano e allora ne multi uno per educarne un po almeno 100 in qualche modo cacciatori piombano su un gruppo fai shock al tour visitatore colpito da pallini stavano inseguendo una lepre hanno continuato a sparare l'animale si è rifugiato nella comitiva di 60 persone e insomma è stato come scrive il giornale questa mattina davvero un episodio sconcertante che è accaduto domenica scorsa alla piave di santo stefano di gaifa in località canavaccio di urbino in occasione dell'evento culturale delle giornate d'autunno del fai offre un bicchiere al cliente 1000 euro di multa sulla pagina di fano del carlino il titolare fanese di un chiosco ambulante di panini stangato dalla polizia municipale di gabice ha violato le norme di vendita scrive il giornale questa mattina insomma 1000 euro di multa per aver offerto mezzo bicchiere di vino a un cliente è successo nel primo pomeriggio di qualche giorno fa aveva posteggiato il suo furgone in un'area di sosta nei pressi di case badioli lungo la strada tra peso riga bice l'uomo è stato multato anche per aver posizionato un tavolo tavolino accanto al furgone con una seconda ammenda che supera 100 euro e che quindi si sommano ai 1032 della prima mentre per quanto riguarda la valigia di cui abbiamo parlato ieri alla stazione che è stata risucchiata la valigia alla stazione di fano dei treni ebbene trenitalia dice stazioni luoghi sicuri secondo trenitalia non è possibile che la valigia della viaggiatrice abbia potuto essere risucchiata dal treno in corsa come raccontato ieri su queste pagine e benché non ci siano telecamere che abbiano ripreso la scena e contrariamente a quanto affermato dall'interessata per trenitalia l'episodio nasce da un posizionamento errato del bagaglio da parte della viaggiatrice oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza dietro la quale occorre rimanere legida di dante sul carnevale siamo sulle pagine di fano del corredo adriatico comitato concede 10 mila euro il programma di fano nelle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta e poi sulla politica invece un silenzio assordante delle donne della destra giunta regionale al maschile in comune contesta la scelta schianto sotto di taglio basso grave un centauro finito contro un'auto in sosta per fare chiarezza sull'urto con un autocarro acquisite le riprese video di una banca è successo intorno a mezzogiorno in viale primo maggio a fano grave un centauro un sessantenne di pesaro gimarra un quartiere di fano variante inutile dannosa ma c'è un disegno per liberare la città dopo l'uscita del senatore coltorti tre consiglieri del movimento 5 stelle ribadiscono le critiche alla scelta della giunta mentre un nuovo arredo in vista per due rotatoria dopo il lockdown e ulteriori mesi di ritardo il cantiere programmato a fine mese il progetto di arredo e della rotatoria di santorso un ecomuseo invece a metauriglia una frazione anche questa di fano borgata e ab di comunità la promotrice pia miccoli illustra il progetto oggi videoconferenza su zoom mentre la chiesetta di san lazaro da restaurare da vent'anni la consigliera luzzi ricorda gli impegni presi dal comune sotto il circolo bianchini svela una nuova stagione impronta di angelucci tra valore culturali e spinta sociale questa è un'iniziativa tra l'altro che ci vede coinvolti perché il circolo bianchini organizza da tantissimo tempo queste conferenze tra l'altro anche molto prestigiose con degli ospiti illustri di primo piano e allora siccome quest'anno con il covid le conferenze in presenza sono difficili da organizzare per mantenere per dare continuità a questo appuntamento che ormai si svolge da tantissimo tempo il circolo bianchini ha pensato giustamente di contattare fano tv e di fare questa cosa in televisione io ho accettato molto volentieri perché quando si tratta di fare cultura al posto delle televendite delle padelle dei materassi fano tv ha sempre scelto questa linea quindi laddove è possibile facciamo cultura perché almeno restiamo con il cervello attivo allora abbiamo accettato questa cosa e praticamente partiamo oggi pomeriggio alle 16.30 con repliche poi alle 21.15 di domani e alle 21 del 25 ottobre con Silvio Garattini cominciamo subito alla grande presidente dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri sull'impatto della pandemia sulle strutture sanitarie poi ce ne sono tanti altri che chiaramente vi diremo di volta in volta ma sono parecchie settimane quindi diciamo è un appuntamento da non perdere oggi pomeriggio 16.30 in primissima assoluta e poi con tutte le repliche che vi abbiamo appunto appena detto soldi alle famiglie per i pesaresi imprese ragazzi questi sono i criteri chi a ottobre ha percepito meno di 1000 euro netti avrà un bonus di 200 il bonifico da 1000 addite invece con un caldo di fatturato superiore all'80% i pesaresi avranno questi soldi che il comune ha ricevuto dallo Stato un milione di euro che verranno divesi e dunque ci sono tutte le indicazioni per poter avere appunto questi soldi albergatori il futuro è nerissimo chiudono anche gli hotel annuali il presidente Oliva a Pesaro dice l'assemblea più importante nella storia di APA e poi ladri all'assalto di locali e pizzerie rubano anche la cannabis light colpi in serie nella notte in più zone della città di Pesaro nel mirino finisce anche una levanderia del centro storico biodigestore grande il doppio non si scelga in base al profitto la rete Pesaro città sostenibile evidenzia le criticità del progetto 5.000 camion in più processione di 50 km questo è il vero problema il nostro capitale è l'ambiente in cui viviamo gli enti locali invitati ad un'altra scelta segnalata la mancanza di discussione e condivisione eppure è un servizio pubblico cioè il problema dei camion al di là del biodigestore investimenti per 45 milioni da tutelare l'università Urbino firma un'intesa antimafia questo è il titolo sul Corriere il Carlino cantiere università 45 milioni ai raggi X firmata l'intesa sulla legalità tra Ateneo e Prefettura via la burocrazia dalla regione così tanti progetti fermi al palo il sindaco di Terra Roveresca chiede di poter fruire dei fondi europei per la pista ciclabile e poi dalla Val Cesano Mondolfo via fermi presenta dei rischi utile un dissuasore di velocità a Senigallia via Fagnani in balia dei baby bulli il sindaco mettiamo le telecamere e poi il caffè centrale sempre a Senigallia che riapre i battenti per colazioni pranzi veloci e aperitivi il Fano stasera va a Cesena per il riscatto dopo la malissimo KO Casalingo visse Triestina in campo sarà la prima invece per i tifosi oggi alle 18.30 poi Roma nel Baratro dunque sarà difficile giocare per la VL ma comunque la partita per il momento c'è rombo di motori la Mille Miglia non si ferma qui siamo a Pergola e Pergola dunque ospiterà di nuovo la Mille Miglia dopo tanti anni noi ci fermiamo qui stasera c'è il telegiornale alle 20.30 grazie per averci seguito passate una buonissima giornata arrivederci